è chiaramente un esame, lo è per tutta la squadra, lo è per lui in maniera particolare si, il palcoscianico è importante, la partita è difficile sicuramente dopo questa gara si potrà dire qualcosa di più su quelle che sono le sue possibilità and Grazie a tutti 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 Può cercare il taglio Van Persi Perfetta interpretazione difensiva Grazie a tutti 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 Grazie a tutti